Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, questo sarà un video in collaborazione con Alessandra, la dea del canale, la dea del relax ASMR, volevo dire dei canali, Alessandra del canale, la dea del relax ASMR, scusate, comincio a dare segnali di squilibrio, ciao Ale, e sarà un svuota la spesa, Ale lo sa già che probabilmente il mio svuota la spesa sarà due video in uno, perché come le spiegavo, sto andando in diverse supermercazioni, e compro pochi prodotti alla volta, quindi non sto più facendo una spesa grossa, ma sto andando più volte, secondo me sto spendendo anche di più che non fare la spesa grossa, ma per un discorso di mancanza di tempo sto facendo così, quindi tra due giorni farò un'altra spesa, però era giusto anche per non fare un video da tre minuti in croce, quindi mi vedrete probabilmente pettinata, truccata e vestita diversa, ma è così. Allora, ho comprato, come al solito vi lascio nell'info box anche il suo canale, quindi mi raccomando andate a seguire anche lei, perché appunto ho un video in collaborazione, ho comprato un mais dolce 2,29 euro, era in offerta da Eurospin, sono stata da Eurospin, questo pacco proprio gigante, all'interno non contiene lo zucchero, quindi l'ho presa apposta, anche perché vorrei fare il pasticcio alla verdura invece che alla carne, infatti ho preso 1,39 euro, un chilo di piselli. Ho preso anche i funghi champignon, 1,29 euro, adesso li vedete umidini perché si stanno sciogliendo i piselli. Ho preso poi pomodoro san marzano dell'agro sarnese nocerino, è un dop, quindi sono curiosa di provarlo, da mettere sempre dentro, 99 centesimi. Io ho preso anche i frigitelli, io amo i frigitelli, 1,99 euro, sono questi qua. Li adoro, di solito li cucino insieme all'aceto e all'olio per friggere. Questa volta appunto voglio metterli nel pasticcio, infatti ho comprato anche le lasagne. Queste qua sfoglie sottili trafilate al bronzo, uova da allevamento al terra, 12 sfoglie pronte e costavano 69 centesimi, cioè una miseria. Poi ha 2,29 euro, no 2,99 euro e 2,19 euro, allora 2,19 euro ho preso la farinata di ceci, è ritornata, è ritornata ma io pensavo fosse, cioè da tempo fa, non so se questo era un rimasuglio, comunque l'ho preso lo stesso. E l'altro ho preso la focaccia. Ligure al formaggio, questa ho mai provata, mentre la farinata di ceci c'era piaciuta davvero tanto. Misto mare 1,19 euro, faccio il couscous col pesce. Ho preso il salmone 2,49 euro, anche se c'è caldo lo stiamo ancora utilizzando. Poi ragazzi ho fatto scorta di detersivo perché a me questo piace tanto, era in offerta a 2,99 euro, anche se è altamente chimico, ma non vedevo l'ora tornasse in offerta perché per la mia divisa questo era l'unico che tirava via qualsiasi odore, veramente. Ho preso due confezioni di questo qua verde, appunto in offerta della Dexal, sono i classici tabs. Mi dispiace, l'ho provato anche ecologico, ma non ci siamo. Questo ragazzi, dovete averlo, dovete provarlo e poi dovete farmi sapere com'è. Quello blu non mi era piaciuto tanto, questo qua verde trovo che come profumazione sia più persistente, lavi meglio. E poi ho voluto provare, questo era l'unico che ancora mi mancava, cioè blu, verde e rosa. Quello blu non mi piace, questo dovevo ancora provarlo con ammorbidente, vediamo un po' insomma se funziona bene come quello verde o no. E basta, intanto ragazzi, questo è quanto. Mi mando un bacio. Intanto, poi appena prenderò qualcos'altro. Cioè capite, vado apposta per proprio tre cose in croce, quindi arriverò sicuramente ad attaccare qualcos'altro. Eccomi qua con un'altra parte della spesa, sempre in collaborazione, sono appena venuta a casa dal lavoro, mi sono fermata a Lidl. Avete visto che sono andata questa mattina da Eurospin e adesso mi sono fermata a Lidl perché comunque da Eurospin non sono andata nel mio solito, quello grande. Sono andata in un altro più piccolino dove c'era il meccanico, insomma avevo portato la macchina del meccanico. E niente, aspettate che... Comunque non si vedono i nomi, vi giro un po'. E lì non c'era frutta, non c'era verdura né niente, volevo prendermi un po' di frutta per il lavoro. Allora a Lidl ho preso queste mele per bambini, però ragazzi sono piccoline, almeno così io riesco a mangiarle in pausa. Spero siano dolci, sono quelle baby. È un sacchetto da un chilo e le ho pagate, vediamo un po', un euro e ventinove. Poi era da una vita che non mettevo più da Lidl. L'ho preso i fonzi, un euro e novantotto. Ho preso due pacchetti di cornetti col mais, noi facciamo sempre aperitivo con le patatine, così. 69 centesimi erano in offerta, ne ho presi due pacchi. Dopo ho trovato un sacco di prodotti scontati con ribasso. Ho preso gli assorbenti, questi non sono notturni, sono però lunghi con ali. e li ho pagati, vediamo un po'. Dove sono? Sì che ho preso tre robe in croce, dovrei far presto trovare... Almeno che non siano passati, eh 0,45 presumo. Perché non aveva la scritta normale con scritto ribasso, però me l'ha fatto passare lo stesso in sconto. Poi ho preso tre di questi qui con mozzarella, hamburger di prosciutto cotto con mozzarella. Ne ho presi tre, mai assaggiati, però scadono tanto in là ed erano appunto scontati. Un euro e ventinove al pezzo, io ho pagato tre euro e tantosette con un euro e diciassette di sconto. Poi ho preso anche il cotto di tacchino con olive, anche questo era in offerta. Tre euro e novantasei di quattro pezzi, erano a 99 centesimi al pezzo, il prezzo pieno. E in più ho pagato un euro e venti di sconto. Eccoli qua, e sono questi qui, così. Buoni da mettere anche nella piadina, così. Ma poi io spesso faccio un pranzo, mangio così al volo e scappo al lavoro. Poi ho preso la cotoletta di tacchino, quella maxi, era in offerta a 1 euro e 99. Buonissime queste cotolette qua, io le prendo anche di marca, sono veramente buone. Tre ricottine senza lattosio a 99 centesimi, queste qua. Voglio fare per domani una sottospecie di tiramisù. Poi ho preso le pesche, noci bio 2 euro e 49 italiane, mi sa che erano le uniche italiane rimaste. Poi ho preso prezzemolo e erba cipollina a 49 centesimi, questi qua in vasetti. Non so se sono più buoni quelli di Eurospin o questi qua dell'isola, io li ho sempre comprati da Eurospin. E per finire ho comprato queste pezze, non so, da me si dice strusa in dialetto. Queste pezze, chissà che cosa, cotoletta, hamburger, sconto, non si sa articolo IVA, 45 centesimi, ragazze. Non lo so se sono queste a 45 centesimi, perché anche queste, vedete, non aveva la scritta 30%, aveva solo il bollino arancione, e me l'hanno fatta passare comunque. Qua non saprei dirvi veramente il prezzo, perché ho i fonzi, le tre ricotte, l'erba cipollina, il prezzemolo, il pesche noci, cotoletta, mini mele rosse, articolo IVA 10%, ne ho uno a 55 centesimi e uno a 45 centesimi, non so tra gli assorbenti e il panno quale sia. Comunque, il panno in bambù, il bambù diventa panno, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, questo mi è piaciuto tantissimo. Panno ecosostenibile in bambù e dentro ce ne sono due pezzi made in Italy. Comunque, voglio provarlo, sono super curiosa. Ecco, non metto in dubbio che probabilmente ci sarà una terza spesa, ve l'ho detto come nel primo video, sto facendo insomma queste mini spese come vedete, no? Mi è venuto in mente che volevo fare un dolce per domani, allora ho preso la ricottina, mi è venuto in mente che mi servivano della frutta e verdura al lavoro, allora vedete così, io sto facendo la spesa così, quindi insomma... probabilmente ci sarà un terzo video. Comunque, se non ci fosse, vi ricordo nell'infobox il canale di Alessandra.